cari fratelli e sorelle nero azzurre sono don gg inter scusate ogni tanto mi viene la parlantina bolognese perché ci siamo sentiti prima con don cherubino allora mi sa venendo la parlantina comunque cari fratelli e sorelle nero azzurre sono sempre don gg inter e come sempre sono qui per parlare della nostra amata squadra che ahimè ha fatto quello che nessuno si aspettava io ho chiesto l'aiuto divino si vede che ultimamente il signore anche domenica durante fiorentina inter si è dimenticato che le partite finiscono anche dopo il novantesimo al novantesimo ha preso ha lasciato la nuvoletta è andato a fare altro perché era impegnato in ale e noi abbiamo preso il gol come bisogna sempre avvisare il signore che l'inter se sta vincendo solo 1 a 0 anche se sono nei minuti di recupero è meglio che il signore stia lì perché ogni tanto soprattutto a firenze noi prendiamo il gol come dei pinocchietti e quindi è un altro pareggio adesso siamo a pari punti con l'odiata squadra anzi ci hanno già sorpassato noi dobbiamo vincere questa sera alle 6 contro il geno si spera si spera io purtroppo avevo preparato la letterina al signore ma e me non mi si è non mi si è salvato mi sono dimenticato di fare salvo ho stampato subito la letterina si è stampata quella precedente e vabbè e quindi dovrete accontentarvi farò la letterina intanto l'avevo scritta quindi più o meno mi ricordo cosa avevo detto al signore anche se non è preciso tanto il signore mi ascolta lo stesso ma prima devo fare la canzoncina ho dovuto fare un piccolo cambiamento perché ahimè l'autaro questa sera non ci sarà e quindi la canzoncina leggermente diversa quella poi da se da dalla prossima dall'anno prossimo oramai perché questa è l'ultima giornata di campionato tornerà ancora quella normale per l'ultima volta perché giocheremo il 5 poi c'è la befana arrivano i remagi e si chiude baracche burattini vedete ogni tanto mi parte eh ho sentito Don Cherubino prima e vabbè succede comunque cari fratelli e sorelle nell'azzurra cantate si fa per dire eh si fa per dire perché ahimè io il canto come dicevo prima siamo agli antipodi però facciamola lo stesso col nome di nuovo quindi anziché l'autaro diremo l'altro attaccante quindi la canzoncina è questa esposito si con luca con esposito si con luca con esposito si con luca con e e concludiamo con un altro esposito si con luca con e bene cari fratelli e sorelle dell'azzurra dopo il piccolo preambolo canoro si fa per dire apprestiamoci un attimino a leggere la letterina perché ahimè le ultime partite la vittoria non c'è stata prima c'è stato il pareggio poi un'altra sconfitta prima il pareggio con la Roma poi la sconfitta col Barcellona che vabbè cambiava poco pareggiare o perdere cambiava poco dovevamo vincere quella partita ahimè è andata come è andata e poi è arrivato un altro pareggio anche con la Fiorentina clamoroso perché vabbè cose che succedono sempre la nostra amata squadra quando arriva sotto Natale deve fare i regali deve fare elargire regalini a destra e sinistra quindi speriamo in bene che oggi non elargisca ma accaparri è ora di accaparrarsi i regali e quindi andiamo a leggere la letterina che dicevo avevo preparato per il Signore ma che ahimè non non mi si è stampata ecco diciamo così non mi è stampata e non c'era il tempo di riscriverla perché sennò questo video non lo vedrete più ora che quindi andrò come si suol dire come fa Don Cherubino via in libertà ecco in libertà diciamo in libertà quindi come sempre mi tolgo il cappelluccio lo appoggiamo delicatamente teniamo qui non serve a niente però vabbè la tengo qua che è sempre bello come come aiuto psicologico ecco diciamo così quindi cari fratelli e sorelle nerazzurre andiamo a leggere la diciassettesima lettera al Signore di Don Gigi l'Inter dopo aver visto la formazione che questa sera Antonio Conte è costretto a mettere in campo preghiamo il Signore innanzitutto per i nostri due difensori che saranno anche titolari ma che ultimamente qualche pasticcetto l'hanno fatto quindi cari fratelli e sorelle nerazzurre preghiamo il Signore per i nostri difensori Scrinia e Godin perché ce li faccia tornare belli forti due muri insormontabili come lo erano più o meno l'anno scorso nelle loro rispettive squadre quindi uno nella nostra amata squadra in cui si è fatto riconoscere in questi due anni in cui all'Inter ha fatto molto ma molto bene e anche Godin che chiamavano lo sceriffo ma ultimamente lo sceriffo qualche ladruncolo d'area di rigore gli scappa e non va bene quindi preghiamo il Signore che riescano a far tornare una bel bel muro davanti ad Andanovic detto questo cari fratelli e sorelle nerazzurre pensiamo al nostro centrocampo che sarà composto da Borca Valero Vessino e Candreva quindi preghiamo il Signore affinché permetta innanzitutto a Borca Valero di continuare a giocare come sta divinamente giocando nonostante sia nonno Valero e restare in campo per almeno 75 minuti addirittura Firenze è arrivato a 83 minuti ha fatto anche gol quindi ringraziamo anche il Signore perché ce lo sta veramente facendo tornare in auge il nostro Borca quindi speriamo che anche oggi riesca 70-75 minuti fatti bene magari con un gollettino ancora non sarebbe male o un assist che sarebbe importante poi preghiamo il Signore per Vessino so che ci vorrebbe un miracolone ma che gli faccia tornare innanzitutto quella garra che serve in area di rigore per fare gol visto che uno l'ha fatto ma non non è servito praticamente a nulla visto che ci hanno rimontato e quindi speriamo che torni a fare gol e speriamo soprattutto che gli dia meno dei piedini un attimino più decenti per fare almeno un passaggetto giusto sopra i 10 metri ecco non tanto sopra i 10 metri 10-15 metri non giusto 3 metri perché se sono 4 la palla finisce agli avversari e infine cari fratelli e sorelle nerazzurre preghiamo per il terzo c'è il controcampista dopo Borcavalero dopo Vessino c'è anche Cadreva che ahimè oggi dovrà giocare centrocampista non nella sulla esterna quindi speriamo in bene visto che non gioca in questo ruolo da almeno tre o quattro anni visto che è sempre giocato in esterna e speriamo che riesca a fare una buonissima partita preghiamo il Signore che glielo consenta e infine le ultime due preghiere le voglio fare per i nostri due centravanti per il Lucacone che ultimamente sono più i gol che mangia che quelli che segni e non va bene perché poi dopo mi ingrassa e più ingrassa e più sbaglia quindi è meglio che magari faccia la dieta dei gol sbagliati e invece li metta dentro quando all'occasione segni quindi magari se oggi uno o due gol ce li regalasse il Signore tramite il Lucacone noi saremo molto felici detto questo l'altra preghiera sempre al Signore sempre nella sua infinita bontà la voglio fare per il nostro giovincello il nostro espositino che è bravo è forte tutto quello che volete ma è sempre un ragazzino quindi un aiutino divino sarebbe sempre ben accetto perché ne abbiamo veramente tanto ma tanto bisogno dell'aiuto dell'altissimo per anche il ragazzino naturalmente la preghiera è valida anche per il resto della nostra amata squadra detto questo cari fratelli seasonelle nero azzurro e ringraziamo il Signore per averci umilmente accettato le nostre umili richieste bene per rafforzare come sempre la preghiera che abbiamo fatto chiediamo al Signore che appunto ci dia anche una mano e andando a riprendere la preghiera che Gesù ci ha tramandato duemila anni fa più di duemila anni fa ormai e che Don Mario Inter ormai cardinale lo sapete e io abbiamo rifatto per la nostra amata squadra andiamo a fare la preghierina adesso riuscirò a trovare la ma eccoci qua eccoci qua padre nostro Inter che sei nei cieli nero azzurro sia santificato il tuo nome venga il tuo regno e fai tornare possibilmente anche quello dell'Inter se poi fosse come nel 2009 2010 sarebbe molto bello ma va bene anche per quest'anno ti chiediamo come stiamo chiedendoti umilmente da tanto tempo di farci arrivare alla prossima qualificazione alla Champions in maniera un pochettino meno sofferente diciamo rispetto agli ultimi due anni che veramente abbiamo rischiato il coccolone poi naturalmente ti chiediamo sempre nella tua infinita bontà di farci vincere almeno una Coppa Italia giusto per evitare che ci venga detto che siamo rimasti a zero titoli anche quest'anno sia fatta la tua volontà come in cielo come in terra ma soprattutto fai vincere l'Inter quindi dacci oggi la nostra vittoria settimanale visto che sono due settimane che ci neghi questa importante cosa tra l'altro i nostri nemici amatissimi hanno già vinto la partita di questa giornata di campionato quindi non vorrai mica che restiamo dietro quindi permetteci di stargli vicino come Attini e Paguro e come una cozza allo scoglio detto questo dacci oggi i nostri tre punti settimanali come noi li rimettiamo alla nostra classifica e non ci indurre in Serie B ma liberaci dalla sconfitta contro Genova e naturalmente anche dal pareggio e quindi come dicevo prima regalaci una vittoria fondamentale per rimanere sempre primi in classifica detto questo Amen bene cari fratelli e sorelle nerazzurre il nostro momento di raccoglimento è finito potete andare in pace Naturalmente rinnovo come sempre il consiglio che vi sto dando ormai da tanto tempo quindi è inutile che sto a farvi tutto il preambolo vado subito a dirvi qual è il consiglio che è quello di Padre Pedro alias Baspenza rinforge l'altra guancia che è il seguente San Camillo San Camillo fammi stare un po' tranquillo San Tommaso San Tommaso ormi viene la mosca al naso San Clemente San Clemente fa che sia molto paziente che se perdo la pazienza devo fare penitenza bene cari fratelli e sorelle nerazzurre nonostante un po' di piccoli problemini tecnico-tattici siamo riusciti a finire la nostra preghiera anche natalizia quindi comunque io vi farò gli auguri successivamente se non dovesse riuscirci ve li faccio già adesso gli auguri di Buon Natale e poi eventualmente vi farò anche quelli di Buon Anno perché è bello comunque settimana prossima farvi gli augurini di Buon Anno video veloce veloce anche perché sarò molto indaffarato Amen